In questo video vedremo come inserire correttamente, scalare e georeferenziare in Rhinoceros, nuvole di punti e mesh generate dal software fotogrammetrico Metashape avvalendosi di riferimenti cartografici precedentemente importati da QGIS. Nel precedente video abbiamo mostrato come, a partire da riprese fotografiche opportunamente eseguite, attraverso l'elaborazione con software fotogrammetrico dedicato, sia possibile generare nuvole di punti e mesh tridimensionali importabili in ambiente CAD. Le foto, però, come si diceva, non contengono direttamente informazioni sulla misura e l'orientamento degli oggetti che rappresentano, a meno che in esse non compaia un preciso riferimento metrico. Dunque, il database fotografico 3D si tratti di nuvola di punti o di mesh, pur conservando fedelmente le proporzioni tra gli elementi reali rappresentati, non risulta scalato né orientato in maniera corretta, né tantomeno riferito a precise coordinate geografiche, insomma non è georeferenziato. È naturalmente possibile impostare direttamente in Metashape prima dell'esportazione un sistema di riferimento georeferenziato. In questo video suggeriamo tuttavia un metodo più diretto e meno raffinato, ma comunque efficace per orientare il database fotogrammetrico in ambiente CAD 3D. A tale scopo serviamoci di un esempio pratico. Ipotizziamo di voler rilevare e georeferenziare la pavimentazione di V Ampere, ovvero dell'area antistante alla nostra scuola di architettura, assunta quale contesto del nostro intervento di progetto. I dati fotogrammetrici ricavati ci aiuteranno a ricostruire la geometria della pavimentazione e a inserirvi correttamente il nostro progetto, posizionandolo rispetto a riferimenti esistenti. Volendo avvalerci di un riferimento affidabile, iniziamo con l'importare in ambiente CAD la mappa cartografica georeferenziata dell'area prescelta da QGIS. Questa costituirà il riferimento di base per orientare e scalare il database fotogrammetrico. Alla fine vi inseriremo il nostro progetto. Procederemo, come indicato nel video relativo all'esportazione e importazione di database cartografico GIS a cui si rinvia per i dettagli operativi. Esportiamo quindi da QGIS la nostra mappa in formato DXF. Importando il file DXF in ambiente CAD, le coordinate di georeferenziazione QGIS saranno trasposte nel sistema di riferimento cartesiano di Rhinoceros. Attenzione però, ricordiamo ancora una volta che Rhinoceros non possiede un proprio sistema di georeferenziazione. Pertanto il passaggio inverso, ovvero l'importazione in QGIS di file CAD con sistema di riferimento generico o in cui siano state eseguite modifiche di posizione, non comporta alcuna georeferenziazione. Torniamo quindi a noi, ovvero al trasferimento di file cartografici da ambiente GIS ad ambiente CAD. Una volta importata, scalata e georeferenziata la base cartografica in Rhinoceros, proseguiamo con l'importazione della nuvola di punti generata da Metasheet, cliccando su File e poi sul comando Import, come abbiamo visto nel video precedente. Proponiamoci ora di montare la nuvola di punti sulla mappa importata in Rhino, integrandola nel file CAD dell'area di progetto. Proprio come se dovessimo collocarla fisicamente in loco, è necessario svolgere preliminarmente alcune operazioni di scalatura e orientamento della nuvola di punti per adattarla alla base cartografica e farla con essa combaciare. Nel nostro caso, oltre alla base cartografica, nell'ambiente CAD sono già presenti alcune volumetrie, precedentemente verificate e inserite per evidenziare la tridimensionalità del contesto architettonico. Ci saranno utili per verificare la coerenza complessiva del procedimento. Scegliamo quindi tre punti di riferimento, di cui siano note le reciproche posizioni e distanze nello spazio reale e che siano chiaramente identificabili sulla nuvola e sulla cartografia, nel nostro caso anche sulle volumetrie già presenti nel modello CAD. Tali punti saranno utili sia per orientare la nuvola nello spazio digitale, sia per scalarla e adattarla alla base cartografica. Va precisato che la selezione di tali punti e degli ulteriori punti che per maggior sicurezza si volessero utilizzare richiede particolare attenzione ed esperienza, al fine di evitare distorsioni ed errori. Selezioniamo quindi la nuvola di punti e attiviamo il comando Orient3PT. Impostiamo poi la voce Scale nella barra dei comandi sull'opzione Yes. Scegliamo quindi i tre reference points sulla nuvola e successivamente i tre target points sulla cartografia e sul modello 3D, di cui conosciamo le vere coordinate e distanze e a cui intendiamo far corrispondere i reference points della nuvola. Anche la mesh potrà essere importata e orientata con analogo procedimento. Come già dicevamo, poiché la mappa proveniente da QGIS, opportunamente esportata, mantiene le coordinate del sistema di riferimento originario in ambiente CAD, sia la nuvola di punti sia la mesh, una volta scalata e correttamente orientate, risulteranno georeferenziate anche nel file Rhino. Concludiamo con alcune osservazioni. Sia la nuvola di punti che la mesh contengono un elevato numero di informazioni, spesso ridondanti, solitamente superiori rispetto a quelle strettamente necessarie alla corretta interpretazione e modellazione dell'oggetto rilevato. È quindi consigliabile controllare la risoluzione del database e nel caso ridurla anche per agevolare l'elaborazione. Il processo di conversione di un modello ad alta risoluzione in uno a minore definizione, da valutare di volta in volta in base al lavoro, viene definito re-topology. Si tratta di un ulteriore aspetto specialistico che riteniamo utile menzionare pur esulando dall'argomento della nostra presentazione. È comunque possibile interpretare e semplificare le geometrie sottese alle nuvole di punti e alle mesh utilizzando i consueti strumenti di modellazione. Per esempio, selezionando solo alcuni punti significativi fra i tantissimi rilevati, possiamo definire la giacitura del piano che approssima la forma della nostra pavimentazione di aria, prescindendo da imperfezioni e dati ridondanti. In teoria, come sappiamo, per definire la giacitura di un piano sono sufficienti tre punti. In presenza di configurazioni più complesse, quali solitamente sono gli spazi architettonici, urbani e i contesti naturali, la razionalizzazione geometrica del database fotogrammetrico richiederà più sofisticate considerazioni preliminari. Occorre in questi casi valutare la più appropriata configurazione geometrica semplificata da utilizzare in sostituzione della configurazione risultante dal database fotogrammetrico. La semplificazione sarà più o meno spinta anche in funzione del grado di approssimazione desiderato da stabilire in base alla scala di lavoro, agli scopi del rilievo e a vari altri fattori contingenti, incluso il peso del file. Insomma, difficilmente una nuvola di punti o una mesh potranno essere trasposte così come sono nel modello CAD 3D. Esse vanno piuttosto intese come database spaziali grezzi che richiedono un'attenta rielaborazione modellistica. È dunque necessario, come si dice in gergo, formulare preventivamente adeguate ipotesi configurative a partire dal database fotogrammetrico in vista della sua trasposizione modellistica in ambiente CAD 3D. Si tratta ovviamente di una fase non banale del processo di rilevamento e rappresentazione, di carattere non meramente esecutivo ma anche critico e interpretativo, legata a vari fattori, dalla tipologia del contesto rilevato, alla specifica fase di modellazione a cui si riferisce, al tipo di lavoro da eseguire e così via. Concludiamo segnalando che, in linea di massima, i processi di input attraverso cui si perviene all'implementazione del modello digitale 3D implicano l'interazione e la gestione integrata di molteplici livelli informativi e quindi di molteplici ambienti software. A titolo di esempio, i dati elaborati tramite i programmi software visti finora hanno consentito la realizzazione di un modello che, pur nella sua configurazione unitaria, si compone appunto di più livelli o layer informativi, il cui processo di integrazione è l'aspetto principale che in queste brevi lezioni abbiamo voluto evidenziare. Nell'esempio possiamo vedere in esploso gli strati di questo sandwich informativo, la base cartografica QGIS in formato raster, la base cartografica QGIS in formato vector, il modello 3D del contesto, la nuvola di punti della pavimentazione, il modello mesh della pavimentazione. Come si è detto, le potenzialità offerte da questa convergenza informativa, anche nella prospettiva di un approccio collaborativo alla ricerca e al progetto, sono di per sé evidenti.